Terra Agosto in sella con il classico e storico appuntamento di Fomarco organizzato dal pedale Ossolano, un appuntamento tra tradizione e novità. Tre gare in un giorno con una prova allievi, una prova esordienti e novità una prova prettamente femminile. Tre gare che, come succede ormai da parecchie stagioni, andranno ad assegnare i titoli di campione provinciale su strada. Programma che inizia la mattina con il settimo Memorial Massimo Bertolini, campionato provinciale allievi. Partenza da Fomarco alle 9.30, trasferimento in valle al chilometro zero e conclusione dopo 78.4 chilometri a Fomarco, con la salita affrontata una prima volta ad anticipare l'arrivo previsto alle ore 11.30. Tanti gli iscritti, tra i favoriti anche il vigezzino Nicola Sdresti, ma attenzione agli atleti che arrivano da fuori Piemonte. Subito dopo, ecco la grande novità tutta dedicata al ciclismo femminile. Il primo trofeo Donini Logistica Donne Allieve Esordienti, campionato provinciale Donne Esordienti. Partenza da Piemonte alle 13.00 ed arrivo a Fomarco dopo 35 chilometri, previsto per le 14.30. Occhi puntati su Francesca Barale, che punta l'ennesimo successo stagionale e che nella gara di casa tiene a fare bella figura. Infine, la gara che è uno dei totem storici del ciclismo della nostra zona. Una delle poche prove, ahinoi, non andate perse. Il 38.00 trofeo Circolo Arci Fomarco, 13.00 trofeo Comune di Piemonte Vergonte, campionato provinciale Esordienti, primo e secondo anno in gara unica. Prova che negli anni è stata organizzata da Pedale Ossolano, GSVCO, Pedale Verbanese e che ora è tornata nelle sicure mani organizzative del team di Florido Barale, con tanti ragazzi poi diventati professionisti, nell'Albodoro quali vincitori o piazzati. Uno su tutti, Ivan Basso, che poi ha vinto due giri d'Italia. Partenza da Fomarco alle 15.30 e trasferimento in valle al chilometro zero. Arrivo a Fomarco dopo 38.3 chilometri, previsto alle ore 17.00. Il club organizzatore punta forte su Milco Bozzola, argento ai campionati italiani. Al termine le premiazioni e la vestizione delle maglie provinciali.